Il primo applauso ufficiale della serata per coloro che fortemente hanno voluto organizzare in questa tappa l'associazione Liberamente, facciamo sentire forte l'applauso, grazie, grazie agli amici che si sono impegnati per questa serata mi riferisco ad Andrea e Gabriele che hanno lavorato davvero tantissimo per fare in modo che questa serata potesse essere uno spettacolo come vedrete tantissimi concorrenti qui sul palco che si esibiranno in una sfida sicuramente senza esclusione di colpi il ringraziamento va anche ovviamente all'amministrazione comunale per aver concesso il patrocino e l'organizzazione di questo evento quindi il pubblico diventerà protagonista, ogni concorrente si esibirà con una o due canzoni sarà poi decidere chi saranno i vincitori di questa serata, primo, secondo e terzo classificato porteranno a casa i trofei e la qualificazione alla finalissima di fine anno varie tappe che si sono svolte in Puglia, Basilicata, ci saranno altre in Calabria, in provincia di Lecce e così via e naturalmente procederemo ad eleggere chi sarà il vincitore della Corrida del Sud edizione 2023 da dieci anni un format che sta sempre più prendendo piede e naturalmente sta conquistando sempre di più le platee con gli amici che ci chiamano anche in altre occasioni per la seconda, terza e quarta edizione Rocchetta Sant'Antonio, tantissimi concorrenti pronti anche qui nel posto che si esibiranno per voi naturalmente giuria popolare, sarete voi a decidere chi saranno i vincitori alla fine ascolterete tante bellissime canzoni, esibizioni varie, vedete qui alle mie spalle tre meravigliosi esemplari di batterie acustiche e naturalmente ci sarà il momento in cui il pubblico entrerà in gioco alla fine tutti schierati i concorrenti qui sul palco abbiamo questo apparecchio qui alla mia sinistra questo è un applausometro grazie al CR Service con l'applausometro in base all'intensità del vostro applauso potremo decidere chi saranno i vincitori di questa serata una bellissima platea qui Piazza Aldomoro per dare il benvenuto ai concorrenti e sono tanti tutti agguerriti ma soprattutto avremo la possibilità di avere anche dei graditi ospiti di ogni età che allieteranno questo importante evento di fine estate ancora un ringraziamento lo facciamo all'associazione liberamente non mi resta che fare altro che dedicarvi una buona serata augurarvi buon divertimento sto per chiamare sul palco i primi tre protagonisti ma non saranno in gara, sono ospiti che si esibiranno alla batteria per una prima performance e sono, accogliamoli con un grande applauso Gioia Manna, Alessandro D'Agostino e Jacopo di Letizia pronti a fare il loro ingresso sul palco per una serata sicuramente spumeggiante vediamo cosa sono capaci di fare loro sono degli artisti della batteria mettiamo dalla prova quale migliore occasione che Piazza Aldomoro piena di tanta gente allora, Jacopo, Gioia e Alessandro eccoli qua, vediamo cosa hanno preparato sicuramente una delle tre esibizioni della serata con qualcosa che ha a che fare con un medley probabilmente vi lascio con la colonna sonora di apertura di questa serata ancora a tutti buon divertimento con la Corrida del Sud a tutti buon divertimento con la Corrida del Sud a tutti buon divertimento con la Corrida del Sud a tutti buon divertimento con la Corrida del Sud a tutti buon divertimento con la Corrida del Sud a tutti buon divertimento con la Corrida del Sud Grazie a tutti. 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 Così poche? O non si vogliono far scoprire? 12 persone. Gianfranco Costantino è un amante della musica di Battisti, giusto? Anche di Battisti. Il primo brano è firmato Mogol, Mogol Battisti, una bella coppia. Ci farà ascoltare come primo brano, a lui concediamo due brani, come del resto anche ad altri concorrenti, La Luce dell'Est. Applauso! Grazie! 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 L'amma fa sospirietà Poi seduti accanto in un'osteria Bevendo un te caldo che è follia Io la sentivo già profondamente mia Ma un ammo calpestato ed ecco che Ritorno col pensiero E ascolto te, il passo tuo Il tuo respiro dietro a me A te che sei presente Nella mia mente E come il cielo leggeri Volano tutti i miei pensieri Per lasciare solo posto il tuo viso Come il sole rosso acceso Andete a me L'amma fa sospirietà Scopo il mio rio Per leggere in silenzio Un libro scritto a te Le mani rosse un poco ruvide La mia bocca nell'abbraccio Cerca il seno bianco e morbido Tra noi Dimmi perché ridi Amore mio Proprio così buffo sono io La sua risposta dolce Non senti mai L'auto che partiva L'auto che partiva è dietro a lei Ferma nella strada lontana o mai Lei che mi correva inutilmente L'auto che partiva è dietro a lei 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un bel applauso, però il microfono deve tenere più vicino, se no facciamo impazzire il service. Lo devi tenere così, vedi? Più vicino. Non puoi cantare così. Mi raccomando, eh? Mi raccomando. Allora, prima prova superata, concorrente numero due. Ascoltiamo la seconda canzone. Questa è più conosciuta. Emozioni. Lucio Battisti. Ancora con noi Gianfranco Costantino. Vai, microfono vicino. Grazie, grazie a tutti. Siete tutti? Meravine. Seguì con gli occhi un maione sopra il fiume poi. Ritrovarsi a volare. Ti svegliassi felice, sondare le mani a ascoltare. Un sottile dispiacere. E passare con lo sguardo la collina per scoprire. Dove sono arrivato niente? Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al po' è. Come le mani non fanno volere. E guidare come un pazzo a fare i spenti nella notte per vedere. Se poi è tanto difficile muovere. E stringere le mani per le mani. Qualcosa che è dentro a me. Ma nella mente tutto non c'è. Capire tu non puoi. Tu che mi ha laissero emozioni. Tu che mi ha laissero emozioni. Tu che non puoi. E poi scoprirà che dentro qualcosa muovere. E ricomedi per una piantina verde, Sperando la terra, Nascendo la terra. E prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non sono le offese. E le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è capire tutto. E tu chi amare se vuoi emozioni, tu chi amare se vuoi emozioni. Allora, facciamo un applauso ancora per il concorrente con il numero due. Un forte abbraccio e grazie a tutti voi. A chi lo dedichiamo questo brano? A tutte le donne. Grazie, puoi lasciare il microfono lì. Andiamo avanti perché abbiamo una scaletta lunghissima. Prima del terzo concorrente, doveroso ringraziare l'azienda di viticoltura Potito Gallo di Ascoli Satriano, produzione vini che omaggerà i tre vincitori, più la medaglia simpatia di un suo pregiato prodotto di vino offerto per l'occasione. Ancora Macelleria Montidauni di Francesco Porrari, cosso da un ilpino 39 qui a Rocchietta. Il tarallificio Bruno Santoro, cosso da un ilpino 137 prodotti da forno. Il tarallificio del Pozzo di Sansone, Francesco Paolo, prodotti artigianali. Queste sono le aziende che generosamente omaggeranno tutti i concorrenti e gli ospiti come ricordo di questa serata. Partiamo ancora con il terzo concorrente, accogliamolo con un grande applauso, vai! Eccolo qui che sale con la nostra meravigliosa palletta, un applauso anche alla nostra palletta bellissima come sempre, Giussi! Buonasera! Buonasera! Come va? Bene! Allora, tu chi sei? Presentati agli amici di Rocchietta! Beh, mi presento! Qualcuno ti conosce sicuramente! Beh, qualcuno senz'altro mi conosce, sono Antonio Montemorra, ex capo stazione della stazione di Rocchietta Sant'Antonio-Lacedonia. E anche a farla apposta! Wow! Quanta gente conosce questo signore! Vediamo un po' chi l'ha incontrato, l'ha incrociato per caso, vediamo un po'. Tutti timidi stasera, visto? Timidi? Timidi, sì! No, 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 no! Dobbiamo scaldarli! Non è una delle grandi occasioni! Niente! Tu avevi un pensiero per qualcuno stasera? Sì, io questa sera vorrei ricordare un grande uomo di questa città che ha fatto tanto per questo paese e per la stazione di Rocchietta quando io ero in servizio. Il grande, e vi chiedo un grande applauso, Amedeo Magnato. Applauso forte! Grande persona, davvero! Un grande sindaco che questa città ha partorito, veramente! Senza togliere nulla alle amministrazioni che si sono succedute successivamente, però è stato veramente una persona sempre disponibile nei confronti dell'FS e l'FS sono stati disponibili con loro. Ricordo ancora quando il popolo di Rocchietta veniva a festeggiare il santo patrono il 17 di gennaio presso la stazione di Rocchietta e portavano di tutto e di più e si faceva il corteo e tante altre belle cose. E si festeggiava anche con un complesso e via dicendo, allora, fuochi d'artificio e quant'altro. Rocchietta merita un grande applauso. Davvero, davvero, davvero con questo meraviglioso pubblico di questa sera, grazie agli amici dell'Associazione Liberamente che hanno lavorato alla grande per concretizzare questa serata, anche grazie a te soprattutto. Beh, io ringrazio i sponsor che ho contattato, che hanno provveduto veramente e sono stati generosi e li ringrazio per questo. Benissimo, grazie ancora di cuore a te Antonio Montemorra, concorrente numero 3. Lui ha pensato di rispolverare un brano del grande Meno Reitano. Il brano si chiama Avevo un cuore che ti amava tanto. Antonio Montemorra! Dei miei ventanni, Che me ne faccio se questo mondo mi lascia indietro? Avevo un cuore che ti amava tanto. Avevo un cuore che ti amava tanto e si è perduto per volerti bene. Io chiedo a te di tenermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto è cieco in questo mare di silenzio. Mi hanno detto che si vive di speranza, se tu lo vuoi mi aiuterai. Per questo amore ti ho dato tutto. Avevo un cuore che ti amava tanto e non rinuncia a perderti per sempre. Io chiedo a te di tenermi una mano e di salvarmi se lo vuoi. E questo cuore che ti amava tanto è ancora vivo e non sa fermarsi. In questi occhi leggi la mia vita che si è perduta senza te. Grazie, grazie. Che pubblico, eh Antonio? Ci siamo riusciti. Davvero, davvero bene a mente. Un colpo d'occhio eccezionale dal palco per ringraziare tutti voi di questo affetto per questa canzone davvero molto passionale di Antonio Montemoro. approfittiamo per ringraziare Cere Service, Geraldo Cammarota, Giovanni e Nicola, i nostri tecnici in regia. Ancora Antonio Montemoro ha scelto un brano che conoscete tutti a memoria. Potete eventualmente cantarlo con lui. Uno dei brani più famosi della storia della musica italiana, I nomadi, Io vagabondo. Io un giorno crescerò, in il cielo della vita, volevo, ma un bimbo che ne sa, sempre giura non può essere l'età. Poi, una notte di settembre, mi svegliai il vento sulla pelle. sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un quartile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre giura non può essere l'età. Poi, una notte di settembre, me ne andai, il fuoco di un cammino, non è caldo come il sole del mattino. chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un quartile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, voglio in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. grazie, grazie. Antonio Montemorra, memorizzate numero tre della nostra parata di aspiranti artisti in cerca di successo per questa ennesima tappa della Corrida del Sud. Grazie Antonio, grazie. Dunque dopo Venosa, Minervino Murge, Ascoli Satriano, ripacanti da questa sera a Rocchietta Sant'Antonio, domani saremo a Rione Rinvulture, poi ci sarà Foggia, e poi ci sposteremo in provincia di Bari e Lecce per altre tappe, e poi alla fine dell'anno finalmente la finalissima. da questa sera usciranno tre concorrenti che raggiungeranno la finalissima, vediamo in base ai gusti del pubblico, alla fine lo ricordo, saranno tutti schierati qui i concorrenti, tramite la giuria popolare più democratico di così, vedremo chi saranno i vincitori con l'applausometro che registrarà l'intensità del vostro applauso. Concorrente numero quattro, finalmente una donna sul palco, vediamo chi è, accogliamola con un applauso. Chiara Leonetti. Buonasera. Buonasera. Quanti anni hai? Dieci. Di dove sei? Di Foggia. Di Foggia? Vivi a Foggia? Sì. Benissimo, allora lei ci regala una doppia performance, giusto? Iniziamo con il ballo, finalmente vedremo anche qualcosa che si muove su questo palco, spostiamo un attimo questo cavo, basta questo spazio. Chiara Leonetti ci regala una coreografia dal titolo Easy for Last. Un applauso anche per lei, concorrente numero quattro, forza! A presto! 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 I can't even mo' Can I see Grazie per la visione 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 Grazie a mille fiori di Leo e Tania Via Duomo Ascoli Satriano Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Tu sei Grazie a tutti 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 E tu Grazie a tutti 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 E tu E tu Grazie a tutti Grazie a tutti E tu E tu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forse E tu E tu Grazie a tutti E tu E tu Si potrebbe svegliere Grazie a tutti E tu E tu E tu E tu E tu E tu Grazie a tutti Thank you E tu 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 E tu